Allora, trailer di Yin-Lin, non l'ho ancora guardato, quindi vediamo. Quattro minuti? Ok. Polizziati sotto copertura, ok. Che poi questa è l'organizzazione di Calciaro, se non sbaglio. O Calcaro come chiamano, però Calciaro mi sono meglio. Ok. Ok. Ok, quindi sta tipo spiando un'organizzazione, che dovrebbe essere l'organizzazione di Calciaro, ma non so per quello. Ah, è sotto copertura, ok. Questa è sempre lei? Madonna mia, oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, quella è molto bella. E ci starebbe... Ah, questa invece è la... E' la situazione di Calciaro, no? Con un piccolo 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 di questo butto. Beh, diciamo che il tuo boss non sarà più piaciuto con l'unico. Tu... va benissimo così l'area ok mi da molto le sparkle vibes della situazione lì comunque lei da a livello di movimenti l'hanno veramente fatta benissimo madonna dov'è che c'ha il dov'è che c'ha il tassetto marca lei che non mi ricordo c'ho la gamba ok guarda la dico carinissimo che ti fa vedere che cambia poi gli outfit perché una gente sotto copertura mi piace ok 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 madonna santa comunque ci sta l'hanno fatta l'hanno fatta proprio bene lei l'hanno fatta proprio bene difatti jesus oh mio dio va anyway e niente direi che bisogna andare a fare la sua quest bisogna bisogna andare a fare la sua quest mi sembra ciao shelly mi sembra al minimo andare a fare la sua quest e ci andiamo immediata subito mi sembra mi sembra